Davide Tura è artista giovane ed eclettico nel panorama musicale, ricercatore, pianista e compositore. Arriva al Teatro Galli proponendo un sentito omaggio al grande Ryuki Sakamoto, artista giapponese che ha saputo interpretare gli ultimi 50 anni di storia attraverso una musica inconfondibile, delicata, profonda e sempre ricercata. Molto noto anche per la musica da film vista la lunga collaborazione con il regista Bertolucci e l'Oscar vinto con Revenant nel 2015. Il concerto è l'occasione di proporre i propri lavori dal titolo Distance, musiche scritte per pianoforte, violino, violoncello, contrabbasso, batteria ed elettronica. Riflessioni dell'anima, stati, souffrance, emotività che evidenziano uno stile musicale pieno di eredità contemporanee, dal neoclassicismo al post-minimalismo, dal jazz al popolare. In apertura una raccolta di brani, di una pietra miliare vivente del minimalismo, Philip Glass. È un concerto che va oltre le divisioni, è una musica di distanze percorse per ritrovarsi nell'essenzialità.